Musica Sono qui per dare un'occhiata generale alla scuola mi sono fatto una ricerca su internet abbastanza velocemente su un po' le scuole che stanno qui in giro Scuola Spazio Tempo è una delle più innovative anche vedendola sui social, è molto presente, molto giovanile, quindi fresca Musica Mi sono venuta affacciare al mondo di questa scuola per scoprire appunto quelle che sono le opportunità che dà a persone che sono attratte da questo mondo appunto Musica 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 Io ho iniziato a far foto quando ero a Londra sono tornato in Italia ho diciamo un po' sospeso però vorrei riprendere il percorso fotografico Musica 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 Sono pronta anche e soprattutto a capire cosa c'è in ogni ambito della cinematografia appunto però comunque sono attratta molto dall'ambito della regia, sceneggiatura comunque però sono aperta a tutto Non lo so, è nata un po' per caso e piano piano mi sono anche appassionato e ho investito anche Musica Musica sono rimasta molto colpita perché comunque comunque sono rimasta molto colpita perché è bello vedere dei set allestiti di qualsiasi genere perché è come se si fosse già dentro in questa realtà Infatti è strano vedere qui in Puglia, Bari una realtà del genere immagini una cosa del genere magari più su Roma, Firenze, Bologna, Milano Bari non l'avrei mai immaginato Sicuramente migliorare tutto quello che so fare avere più conoscenze più conoscenze fare lavori nuovi avventure, viaggiare un po' tutto questo Musica Allora Alice, cosa ne pensi della scuola? Bella ragazzi, dovete venire niente, lo spazio tempo si fa una cosa bella Musica 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 Musica